Adesso in questi giorni decideremo il calendario con il direttore e poi in base a questo ci prepareremo per le varie gare. Andrea è un innesto importante per la nostra squadra perché un uomo di esperienza e di fiducia come lui che ti dà quasi la certezza di portare a casa la vittoria per una squadra di giovani come noi è molto importante. E visto la sua esperienza ci sta anche un po' dirigendo verso le nuove gare, di imparare a fare un treno, di imparare a stare in fila e tante altre cose. Visto le mie caratteristiche di gare ce ne sono molte. Si parte dalla Francia, al Belgio, all'Olanda, sono tutte gare adatte ma in alcune, soprattutto le più importanti, non dico che è impossibile però già fare una bella gara e cercare di rimanere attaccato il più possibile con i primi sarebbe già una grande cosa. Però nelle gare con un po' minori, di minore importanza, lì sicuramente proverò a fare qualcosa di buono. Sarri è un grande appassionato di ciclismo, lui e il padre. Maurizio ha corso anche nelle categorie giovanili, quindi è molto appassionato e tutt'oggi segue il ciclismo. Non tantissimo perché è impegnato con il calcio, adesso che è primo in classico in Serie A, è tanta roba. Però gli ho fatto una domanda, ma questo campionato lo porti a casa oppure no? Lì mi ha risposto, ti faccio un esempio. È come se voi della Bardiani avete la maglia rosa al Giro d'Italia e la dovete portare in fondo fino a Milano o Roma. È la stessa cosa perché noi dobbiamo tenere a bada la Sky del calcio, che sarebbe la Juventus. Quindi per loro vincere il campionato sarebbe una grande impresa. Grazie a tutti.